Con loro noi abbiamo buoni rapporti, specialmente il sottoscritto dei gobbi, speriamo che loro sassiano il problema che abbiamo con i frontalieri, che è uno dei problemi più importanti che abbiamo da risolvere in Ticino, sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista lavorativo, eccetera, eccetera. Non dico nei prossimi giorni, però nei prossimi due mesi noi vorremmo incontrarci con Maroni e discutere un po' la loro strategia, perché tenendo, come dicono loro, il 75% di risorse fiscali in Lombardia, a questo punto qua magari si apre un pertugio per discutere anche delle altre cose, è anche chiaro che noi saremmo disposti a versare non tutti, ma parte di questi ristori sui frontalieri direttamente ai comuni della Lombardia e lì abbiamo bisogno dell'accordo della Liga e della PDS.